con più coordinazione, sono stati più squadra di noi, allora se io presento una squadra così in campo io non voglio rubare i soldi, io guadagno tanti 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 soldi e non li voglio rubare perciò io stasera do le dimensioni, il revo capito ma io presento un pollo che credo che ci sono state che non ci sono state看ute anche noi ci sono stati trovati al ponte anche quella della squadra che ci sono stati trovati Il nostro corso è molto più importante. Grazie a tutti.